Siamo ritornati! Pensavate che eravamo spariti, invece no! Apriamo, richiudiamo, apriamo, richiudiamo, ma stiamo ancora qui! E Franco Sport Discount, con lo suo Meddi e il suo Stefanone, vi stanno aspettando! Perché? È arrivata la neve, sono arrivate, è arrivato il freddo, sono arrivati... No, i soldi non sono arrivati, è proprio perché non sono arrivati tanti soldi che dovete venire qua, perché tanta roba costa la metà! Ma correte da Franco, e dove si trova? Sempre in via Ferrarese, siamo il 219, c'è il parcheggio davanti al negozio, ma venite con fiducia, sono qua! Il re delle taglie forti è Franco Sport Discount a Bologna! Da tutte le miglie vengono, perché? Perché l'assortimento che abbiamo è sempre più grande, le taglie sempre più grandi! Da Stefanone in giù, vi serviamo tutti, da 9, XL, 10, 8, 7, 5, tutte le XL che volete! E roba sempre bellissima e assortita, e di roba di grande qualità, e i prezzi sono molto contenuti! Tutto abbiamo! Tutto! Ma guardate questo piumino che ha la Meddi, com'è bello! Come belle piumine, come bella la Meddi! Ma non abbiamo solo belle cose da donna piccoline, quest'anno ci siamo specializzati anche per la donna, per la donna un pochino robusta, con dei giacconi bellissimi da città, e troverete tanto assortimento! Ricordatevi sempre che Franco Sport Discount ha solo cose di marca, belle e di gran prestigio! E per il prezzo, ma vai su Meddi, fagli vedere quel cartellone lì, fagli vedere che cosa ha addirittura questo prezzo qui! Metà prezzo su tantissime cose, non su tutto ma su tantissime cose! Ma venite presto, 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 presto! Quello che vedete è indossolamenti, è un capo prestigioso, ma non abbiamo solo quello, ne abbiamo altri 50 modelli, abbiamo almeno 200 capi bellissimi, fra Canadi, CS e le marche più prestigiose, Colmar e qualche uno addirittura al 50% di sconto, ma perché? Perché Franco vuole regalare, e vuole regalare vuol dire vuole tanta gente in negozio! Ma dove? Dove c'è il parcheggio davanti? Voi pensate che Franco Sport sia antico? No, no, no! Lo trovate anche su Facebook, Franco Sport Bologna! E adesso Meddi, andiamo in montagna, avanti a cambiare, mettete qualcosa di prestigioso! E gli c'è quest'anno dove si comprano? Ci comprano solo da Franco Sport Discount, ma solo, non si va da nessun'altra parte, perché? Perché li vendo tutti a metà prezzo, e forse è l'ultimo anno che li vendo, Ed è importante, cose belle, le più prestigiose, tutte alla metà prezzo! Venite solo da Franco Sport Discount! Tutto a metà prezzo! 50% di sconto! Abbiamo parlato di sì, ma anche l'abbigliamento sì è importante! Cosa fai? Nudo in mezzo alla neve? Abbiamo cose bellissime da donna e cose bellissime da uomo! Abbigliamento sì, in tutte le migliori, in tutte le forme, in tutti i colori, in tutte le marche, ma solo marche di prestigio! E sotto l'abbigliamento sì, cosa ci sono? I Mambut, meravigliosi! Tutta la serie di Mambut! Il prezzo è buonissimo! E trovate ancora tante cose al 50%, ma non tutto! Però tante cose saranno a metà prezzo! E oltre alle cost manica lunga, troverete da Franco un grandissimo assoltimento di maglioni! Ma guarda che bello che lo fa vedere la Maddi! I maglioni alla cost non hanno bisogno di dire bello brutto! Il maglione alla cost è un maglione alla cost! Certo, a un certo prezzo, ma le cose di prestigio hanno tutti un certo prezzo! E se volete spendere poi poco, 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 Venite sempre da Franco, perché oltre ai maglioni alla cost di grandissimo prestigio abbiamo cose belle! Guardate che bello il maglione a Franco! Ma guardatelo qua, com'è bello, com'è bello! Ma sapete cosa costa? 50% di sconto! Ma guardate quanto assoltimento! Solo 200 capi per voi! E se venite presto li troverete tutti! Venite da... Ahahahah! Bedi! Abbiamo anche la cost italian fit estive a un prezzo di paura, anziché 96, 56 solo! I prezzi di Franco, dove ci trova le cose belle di Franco? E col senno di poi, e col cervelletto di Franchino, è il carismone di Stefanone! Un grande saluto, un abbraccio e arrivederci prestissimo! Dove? Qua! Open Gangnam Style!